Campus Party è un grande evento, permettetemi di considerarlo un po' milanese ormai, ma è milanese non solamente perché si tiene a Milano, ma perché lavora su quella che è la mentalità e la visione di questa città. Mentalità e visione che devono trovare i giovani protagonisti. Noi oggi stiamo pensando alla gestione del quotidiano della città, ma stiamo pensando la Milano del 2030 e come la pensiamo? La pensiamo veramente molto onestamente mettendo i giovani al centro, pensando ai loro bisogni, pensando al contributo che possono dare, pensando ai 200.000 studenti universitari, pensando a come si muoveranno, ma alle case che oggi non hanno in maniera adeguata. Per cui questa nostra amministrativa messa insieme con la mentalità di Campus Party ha un futuro ancora più a lungo, non possono che sposarsi e non possono che portare un grande contributo alla riflessione sul futuro delle città. Io ho un credo assoluto sulla centralità delle città in questo secolo, ma bisogna crearlo il futuro. E quindi grazie a Campus Party, grazie a tutti voi ragazze e ragazzi che siete qui a Milano a impegnarsi per il vostro e il nostro futuro.